Che fotografie possiamo fare durante le stagioni autunno e inverno? Chiaramente c'è meno luce, le giornate sono più corte, abbiamo meno paesaggi e cieli meravigliosi da fotografare all'aperto e quindi come possiamo fare per tenere viva la nostra passione fotografica anche in questa stagione? Me l'avete chiesto come sempre in tantissimi, credo due, e quindi sono qui a fare un video proprio su questo argomento. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare e mi occupo proprio di questo, fotografo le cose per mestiere e quindi di fotografie ne faccio durante tutto l'anno. Ecco che con questo contenuto vi porto 5 generi fotografici che possiamo tranquillamente scattare anche nella stagione brutta e vedrete che effettivamente non cambia proprio niente tra l'estate, l'autunno e l'inverno per i generi fotografici di cui parleremo oggi. E sono quindi delle foto che vi consiglio di fare in questa stagione perché, visto che non possiamo fare foto in spiaggia, foto col sole, foto con dei bei cieli, dei bei tramonti, salvo rarissime eccezioni, ci dedichiamo ad altro e cerchiamo di mettere a frutto il nostro tempo, la nostra strumentazione, la nostra passione, anche perché magari un giorno ci capita un cliente che vuole proprio una di queste cose e noi saremo preparati e la sapremo già fare. Per questo motivo vi chiedo di mettere un like a questo video e, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Io lo vedo che tantissimi, anche che seguono il canale assiduamente, poi non si sono ancora iscritti e questo è un peccato perché poi vi perdete gli episodi. Ah, e vi consiglio di guardare questo video fino alla fine perché l'ultimo genere fotografico di cui parleremo scommetto che vi sorprenderà. Andiamo a incominciare. Primo genere fotografico che chiaramente possiamo realizzare tranquillamente anche durante la stagione brutta, chiamiamola così, è la fotografia still life. La fotografia still life è quel tipo di fotografia in cui fotografiamo oggetti inanimati. Ho già portato diversi esempi sul canale, andateveli a recuperare se ve li siete persi. Rientrano nello still life la fotografia di prodotto, quindi per esempio vi ho fatto vedere come si fotografano delle bottiglie, vi ho fatto vedere come si fotografa un orologio, vi ho fatto vedere in generale come si fotografano oggetti riflettenti anche con dei trucchi e degli accessori abbastanza ricercati. Questi sono tutti generi fotografici che chiaramente possiamo realizzare comodamente in casa anche durante la stagione brutta perché saremo al chiuso in ogni caso, avremo una luce controllata in ogni caso e quindi non ci cambia niente se fuori fa bello o se fuori fa brutto. La nostra fotografia in interni la realizziamo esattamente nello stesso identico modo. Rientrano in questa categoria anche le fotografie food, la foto di cibo, quindi la fotografia per i ristoranti o per il nostro blog di cucina o per qualunque altra cosa. Quando noi fotografiamo qualcosa di inanimato, per inanimato si intende qualcosa che non si muove e quindi abbiamo un set con una luce controllata come potrebbe essere quella che ho qui io adesso, in tutti questi casi ovviamente possiamo scattare serenamente in casa e non ci fa nessunissima differenza che siamo nella bella o nella brutta stagione. Per lo stesso motivo ovviamente il secondo genere fotografico che vi porto è il ritratto posato in studio. Quando noi andiamo in studio con un modello o una modella, la stessa cosa, probabilmente abbiamo uno studio oscurato, abbiamo una stanza con una luce controllata che sia luce flash o luce continua, poco cambia, abbiamo una situazione dove abbiamo controllo totale sulla luce o comunque dovremmo avere controllo totale sulla luce, soprattutto se avete seguito i miei video su come si gestiscono le luci in studio, su come si usano i flash eccetera eccetera, se non l'avete fatto andateveli a recuperare e iscrivetevi perché ne usciranno anche degli altri. Se abbiamo tutto sotto controllo in uno studio fotografico in una sala posa, non ce ne frega assolutamente niente che fuori ci sia il sole oppure no, anzi possiamo anche scattare tranquillamente di notte, a me è capitato più volte di trattenermi in studio fotografico ben oltre le 22 di sera per terminare i lavori e la luce rimane costante per tutta la durata dei lavori, quindi siamo indipendenti dalla luce ambiente, siamo indipendenti dalla luce del sole, indipendenti dalla luce del giorno e quindi siamo anche indipendenti dal ciclo delle stagioni. Un altro genere fotografico che possiamo realizzare tranquillamente anche in autunno-inverno sono le fotografie di interni, con una piccola clausola, nel senso che siamo tutti d'accordo che se stiamo fotografando degli interni ariosi magari è più bello avere una finestra con fuori il cielo azzurro. Sì, siamo tutti d'accordo, però c'è un grosso però, ovvero quando noi realizziamo foto di interni a me capita spesso, fatemi sapere nei commenti se è successo anche a voi, mi capita spesso di avere lame di sole che penetrano dalle finestre. Questo succede perché non faccio i sopralluoghi e non faccio i sopralluoghi perché la maggior parte dei miei clienti in ambito fotografie di interni non sono architetti che hanno tutto il tempo del mondo per realizzare il servizio perché poi durerà per sempre, ma sono magari affittuari che vogliono semplicemente mettere in affitto su Airbnb l'immobile e quindi hanno fretta e quindi il sopralluogo non si fa e quindi io non so da che parte entra la luce a che ora del giorno, per cui si arriva lì e si devono fare le foto in un paio d'ore e quello è il lavoro. E quindi mi becco delle lame di luce che entrano dalle finestre e che interferiscono con la mia scena creando delle zone di contrasto assolutamente indesiderate. Ora, se da un lato è vero che in autunno-inverno probabilmente non abbiamo il cielo azzurro fuori perché avremo il cielo grigio tipico di Milano, se siete a Milano ma credo che un po' in tutta Italia ci sia il cielo grigio in questa stagione, se da un lato è vero che avremo il cielo grigio con le nuvole fuori, dall'altro lato è anche vero che non essendoci il sole non avremo quelle fastidiose lame di luce. Quindi abbiamo un handicap ma abbiamo anche un bonus da giocarci, dipende da come la vogliamo vedere. Personalmente lo reputo un bonus perché dovrò fare meno fatica a rimuovere contrasti indesiderati, quindi è comunque un genere fotografico che si può fare anche nelle stagioni in cui c'è meno luce. Non solo vi dirò di più, ma molte volte mi capita di scattare fotografie di interni di sera o di notte perché magari l'atmosfera è più calda, i miei clienti vogliono far vedere ai propri clienti che questa atmosfera è calda quindi con le lampadine a incandescenza, arancioni eccetera e quindi spesso e volentieri si scatta la sera al crepuscolo, all'imbrunire o addirittura di giorno ma con le persiane chiuse e quindi si ricrea un effetto notte anche se fittizio e quindi in questo caso non cambia assolutamente niente che fuori sia estate con 59 gradi oppure che sia autunno con 12 gradi, è esattamente la stessa cosa. Le nostre foto di interni le possiamo fare tranquillamente tutto l'anno. Un'altra cosa che possiamo fare tutto l'anno sono fotografie ai nostri simpatici animali domestici perché proprio come altri generi di cui abbiamo già parlato che si realizzano tranquillamente al chiuso i nostri animali sono comunque in casa nostra e noi con una lucetta continua semplicissima o con un flashettino senza dargli troppe flashate in faccia perché poi poverini gli dà anche fastidio e magari gli crea anche dei danni però se diamo una flashata sul soffitto per fare una foto al nostro animale una non gli succede assolutamente nulla e quindi possiamo tranquillamente realizzare le nostre foto di animali domestici in interni durante tutto l'anno. Ovviamente questa non è la stessa cosa per animali da esterno. Se vogliamo fotografare il nostro pony o il nostro asino non è proprio la stessa cosa perché magari lì le facciamo in esterno e l'ambiente comunque si vede in foto. Se c'è brutto tempo comunque dalla luce si capisce quindi potrebbero non essere le foto più belle del mondo però tutti gli animali da appartamento si possono tranquillamente fotografare anche in autunno e inverno. E siamo arrivati all'ultimo genere fotografico e questo vi stupirà come vi avevo già anticipato. Ragazzi un genere fotografico che possiamo tranquillamente svolgere in tutte le stagioni è la fotografia notturna in esterna perché fotografare una città di notte in inverno è bellissimo e non cambia quasi nulla. Anzi vi dirò di più, in certi contesti può anche essere meglio perché magari noi facciamo le fotografie con gli addobbi di Natale, andiamo in posti dove magari non c'è più nessuno perché in inverno fa freschino e quindi la gente se ne torna a casa un po' prima e quindi a mezzanotte magari possiamo già andare da qualche parte e fare delle fotografie della città senza nessuno in giro ma con le luci ancora accese. Io ho provato a farlo, lo faccio molto spesso oltre a essere divertenti e a tirare fuori delle belle immagini è una cosa che si fa tranquillamente anche in inverno non cambia niente, è notte quindi la luce ormai è solo la luce artificiale le lampadine, delle case, i lampioni, un'auto che passa e quelle sono le stesse luci che troveremo per tutto l'anno quindi non abbiamo nessunissimo problema a realizzare questo genere fotografico anche in autunno-inverno e anzi i risultati possono essere assolutamente sorprendenti. A questo punto io vi chiedo fatemi sapere in un commento qual è il genere fotografico che vi ha sorpreso di più pensavate di trovarne altri oppure vi aspettavate qualcosa del genere? Fatemelo sapere qui sotto in un commento io risponderò alle domande più interessanti con degli shorts verticali motivo per cui vi invito a iscrivervi cliccando il bottone qui sotto così non vi perdete le risposte signori è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video